Dalla piattaforma Asbim, accedi ad Asbim Project. Aggiungi un nuovo lavoro e ne stabilisci il responsabile. Definisci l'iter del lavoro, organizzandolo in fasi ed attività. Puoi nominare un responsabile anche per ciascuna attività, selezionandolo tra gli utenti definiti in Asbim. Di ciascuna attività, definisci tempi e costi di previsione. Ed in fase di esecuzione, registri tempi e costi effettivi. Generi così il diagramma di Gantt della singola attività, e di tutto il lavoro. E modifichi lo stato di fasi e attività, col progredire del lavoro. Su ciascuna attività, carichi gli elaborati prodotti, prelevandoli dalla piattaforma o direttamente dal tuo computer. Ogni modificazione, registri tempi e costi effettivi, La modifica agli elaborati viene salvata, ed è sempre possibile tornare ad una qualsiasi versione precedente. Su ciascuna attività, visualizzi velocemente il raffronto tra previsione ed esecuzione, sia in termini di costi che di tempo impiegato. Tutti i dati inseriti a livello di fase e, o attività, determinano l'avanzamento dei lavori. E concorrono alla definizione del diagramma di Gantt dell'intero lavoro. Con le durate delle attività, e l'impiego previsto ed effettivo di ciascun operatore. Analizzi e valuti tutti i costi del lavoro anche grazie alle tante viste della potente dashboard di Asbim Project. Ottieni grafici di previsione. Di esecuzione E comparativi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infine, ogni operazione effettuata in Asbim Project, viene registrata nella pagina Eventi, con l'indicazione di chi e che cosa è stato fatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.